Amici di Sisel, benvenuti del caso di dire che un torinese è arrivato trotterellando in Trento alla tabaccheria turco dove hanno vinto 500.000 euro. Andiamo, che è ora di festeggiare! Complimenti Maria Cristina, la tua è la ricettoria super fortunata di oggi! Mi trovo con Maria Cristina, la proprietaria della ricettoria super fortunata di oggi. Senti Maria Cristina, ma chi è il super vincitore? Il super vincitore? Noi siamo una ricettoria qua di quartiere, giocano di solito tutti quelli qua del paese oppure qualche dipendente di Cappannoni o delle zone qua vicine. Ma tu cosa faresti con tutti questi soldi? Un bel viaggio! Una casa! Un gran bel viaggio! 33 trentini entrarono? Trotterellando! Trottelerrando! Dove? Dove! La festa del super vincitore qui a Trento è appena terminata. Amici della Sisel, alla prossima estrazione! Grazie a tutti! Grazie a tutti.